Il giornale Sky Sport ha annunciato che Mattias Sule ha accettato di trasferirsi alla Roma. Secondo Sky Sport, Mattias si è incontrato con i dirigenti della Roma e, dopo le trattative, l'argentino ha accettato l'offerta del club. Ma la Juventus libererà davvero Mattias Sule? Questa è la grande incertezza del momento. La Roma nei prossimi giorni presenterà un'offerta alla Juventus che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro per Mattias. Non si sa se la Juventus accetterà i 25 milioni. Negli ultimi giorni, la Juventus ha rifiutato 20 milioni offerti dall'Estar City. Molti danno per certo che Mattias Sule lascerà la Juve, nonostante c'è a giumotta a prezzi il suo calcio. Personalmente, ritengo che sarebbe un grande errore vendere Mattias. Grazie. 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 Grazie a tutti